Buongiorno a tutti, sono Vanessa Scalera e mi dispiace tantissimo non essere lì, però purtroppo impegni lavorativi non mi hanno consentito di partire, è ovvio che io sostenga con forza e vigore la candidatura di Mesanni a Capitale della Cultura 2024. E' importantissima questa giornata per noi, speriamo che sia una giornata straordinaria anche nel futuro, ecco vabbè però ora non parliamo di quello che sarà, ma di quello che oggi è, questa candidatura. Fare cultura significa a mio avviso tornare ad avere, cultura vuol dire amor proprio, ecco partiamo da questa base, cultura vuol dire volersi bene, cultura vuol dire curiosità, una curiosità smodata per la vita, cultura vuol dire seminare per poi raccogliere e quel raccolto, cultura sempre, vuol dire che quel raccolto tu lo devi saper condividere con gli altri. Io credo che tutte queste caratteristiche Mesanni le abbia sempre avute e che da tanti anni ormai le stia facendo vedere al mondo. Ed è per questo che credo che sia importantissima per noi questa candidatura, perché è giusto che un territorio come il nostro inizi a volersi bene, a stimarsi, ad amarsi e questo. Speriamo di poter festeggiare insieme, grazie e viva Mesanni, viva viva Mesanni, ciao!